Eccomi qua, con un giorno di ritardo, chiedo scusa. Queste ultime tre settimane sono state veramente piene di impegni e non ho avuto molto tempo. Anche se a dire il vero, ieri il video l'avevo preparato, solo che in fase di montaggio mi sono reso conto che non avevo schiacciato play sulla scheda audio. Sono un testone. Dai, iscrivetevi al canale, quantomeno per la sincerità. E così ci riprovo stasera con un video nostalgico, perché voglio parlarvi del primo libro di marketing che ho letto. Eccolo qua. Le 22 immutabili leggi del marketing. Stavo preparando l'esame di microeconomia all'università quando mi sono imbattuto per la prima volta in termini come effetto Veblen, effetto Snob, effetto Traino. E da lì ho capito che i fondamenti dell'economia non sono per niente razionali. Questo perché l'essere umano è razionalmente imperfetto. Da lì poi, complici gli studi umanistici che avevo fatto, la filosofia e la psicologia, mi sono innamorato del marketing e degli effetti e delle relazioni che ha proprio con i comportamenti degli esseri umani. E da allora non l'ho più abbandonato. Ma senza dilungarmi adesso con i ricordi, perché mi viene il magone pensando a quando avevo i capelli e la moto e ho le prove. Eccole. Eccole qua. Capelli. Si vede? Ok. Vi dico subito che questo libro è stato scritto nel 1993 da Arries e Jack Trout, che sono considerati due pilastri della pubblicità. E questo non soltanto per tutte quante le innovazioni che hanno apportato alla materia, ma anche per i contributi che hanno dato nella creazione di teorie sulla comunicazione pubblicitaria che sono valide ancora oggi. Nel 1963 hanno fondato un'agenzia pubblicitaria a New York, la Trout & Rice, che ha lavorato in assoluta controtendenza rispetto ai loro concorrenti. Questo perché il loro obiettivo era quello di creare tra i prodotti e i valori dei propri clienti un legame assolutamente unico. E questo era la base della brand position, cioè la P del posizionamento del marketing, di cui sono stati anche considerati gli ideatori. Abbiamo dimenticato la sigla. Grazie a tutti. Ok, non è mia intenzione fare un riassunto di questo libro, e questo per due motivi. Il primo perché è veramente molto piccolo, più o meno un centinaio di pagine, quindi si legge molto facilmente, ma è anche molto piacevole da leggere. Ma poi soprattutto perché in realtà è stato trattato da tantissima altra gente autorevole, quindi ho ben poco da dire. Se non che viene considerato tra i cinque libri più importanti del marketing, dai maggiori esperti della comunicazione. E questo è il motivo per cui l'ho letto io 25 anni fa, ed è lo stesso motivo per cui continuo a rileggerlo ciclicamente. Con gli opportuni limiti di questo libro, dati dagli anni trascorsi da quando è stato scritto, queste 22 leggi restano sempre uguali, proprio perché comunque restano alla base del commercio e della comunicazione. Prima di tutto però questo libro si apre con una dedica diretta degli autori, esattamente dedicato all'eliminazione di leggende e idee sbagliate dal processo di marketing. Perché il nostro mondo oggi è fatto da promesse di una facile e immediata ricchezza, mentre invece la strada per il successo tracciata da Ries e Jack Trout è assolutamente differente, perché fatta da impegno, è fatta da dedizione, è fatta da lavoro, è fatta da sacrificio e qualche piccola intuizione. E gli stessi esempi che inseriscono all'interno del libro sono la riprova che queste 22 leggi funzionano. Le prime quattro leggi focalizzano l'attenzione sull'importanza della leadership, intesa come la necessità di arrivare prima in un mercato oppure in una categoria. Ma lì dove questo non è possibile si può puntare su altri primati, per esempio attraverso una pubblicità molto forte che entri prima nella testa delle persone e poi nel mercato. Questa nel dettaglio è la legge sulla focalizzazione, che parte proprio dall'importanza e dalla necessità di entrare nella quotidianità delle persone attraverso una parola distintiva. Pensate per esempio a quanti marchi sono diventati il sinonimo o addirittura hanno preso il nome del loro prodotto. Pensate allo scotch, quando parliamo di nastro adesivo, o al Kleenex, quando parliamo di fazzolettino di carta, piuttosto che alla Coca-Cola nel caso di bevande analcoliche. O alla Red Bull nel caso di Energy Green. E questo è proprio il risultato della focalizzazione che è resa possibile da una percezione unica ed esclusiva da parte dei clienti. Perché il marketing non è una battaglia dei prodotti. Il marketing è una battaglia di percezione. E questo vale sia nel caso si voglia vendere qualcosa, ma anche nel caso in cui si voglia disincentivare un acquisto. Le leggi successive invece sono le leggi sul dualismo, le leggi sulla scala, le leggi sull'opposto, le leggi sulla divisione. E sono delle leggi che hanno un carattere assolutamente più strategico, proprio perché riguardano il posizionamento di un prodotto. Rispetto al mercato, rispetto alla categoria, oppure rispetto ai concorrenti. E' molto emblematica, per esempio, la legge degli opposti. Perché se si vuole raggiungere il successo, non si deve copiare o emulare il leader. Piuttosto bisogna creare e trovare il suo opposto. Quindi bisogna trovare un'alternativa. Pensate a Becks quando è arrivata in America. Non poteva pubblicizzarsi come la prima birra di importazione, perché c'era già l'Heineken. Allo stesso modo non poteva pubblicizzarsi come la prima birra di importazione tedesca, perché c'era già l'Ovenbrau. Così ha riposizionato i concorrenti. E ha detto semplicemente, ora che avete provato la prima birra tedesca più popolare in America, non vi resta che provare la prima birra tedesca più popolare in Germania. Geniale, no? Oppure è anche fantastica, per esempio, la legge sulla sincerità. Lì dove praticamente è un'idea totalmente all'opposto di quella che vede tutti i prodotti perfetti, tutti belli, senza errori, senza difetti. Questa legge, per esempio, suggerisce invece di utilizzare proprio i difetti per essere ricordati come quelli che ammettono un proprio errore e cercano di risolverlo, cercano di ripararlo, anziché lasciare tutte quante le cose così come sono e far finta di niente. Ma perché un'iniezione di onestà è così importante nel marketing? Semplicemente perché la sincerità è disarmante. Infatti, le dichiarazioni negative sui nei stessi vengono subito prese per vere, al contrario invece di quelle positive che quantomeno lasciano qualche dubbio e di certo hanno bisogno di una prova. La Listerine, per esempio, per pubblicizzare il loro colluttorio, hanno semplicemente utilizzato lo slogan Il gusto che odiate per due volte al giorno. Quindi non soltanto hanno ammesso che il gusto del colluttorio fa schifo, ma addirittura hanno ammesso che è un gusto che la gente odia. E poi, sempre considerando e partendo dagli errori, Arries e Jack Trout hanno parlato anche della legge del successo e la legge del fallimento, tracciando una linea che deve seguire l'imprenditore per non perdere mai di vista il proprio obiettivo. Questo per non diventare presuntuosi in caso di successo, ma senza nemmeno farsi prendere dalla demotivazione in caso di fallimento, che va sempre tenuto in conto e comunque va accettato. E infine, l'ultima legge è quella che sicuramente è una doccia fredda, è proprio un pugno in piena faccia di quelli che ti stordiscono, ed è la legge sulle risorse. Perché gli autori di questo libro ammettono che un'idea geniale, senza soldi, senza risorse, non va da nessuna parte. E quindi hanno avuto il coraggio di dire anche che è preferibile avere un'idea mediocre e un milione di dollari, piuttosto che avere un'idea geniale e basta. Questo perché la pubblicità costa. Giusto per dire due numeri. La seconda guerra mondiale è costata 9.000 dollari al minuto, la guerra nel Vietnam è costata 22.000 dollari al minuto, mentre invece un minuto di pubblicità nel Super Bowl costa esattamente un milione e mezzo di dollari. Quindi anche l'idea geniale di Steve Jobs non sarebbe andata da nessuna parte senza gli investimenti di Marcula. E noi probabilmente non avremmo conosciuto nemmeno l'Apple. Ma quindi, io, vi sto consigliando questo libro? Diciamo che in un certo senso sì, perché questo libro non parla soltanto della pubblicità ed è questo il motivo per cui io dal primo esame di microeconomia non ho più abbandonato la materia del marketing. Questo libro, in realtà, spiega agli imprenditori, ma soprattutto ai comunicatori, come far emergere un'idea, come collocarla nel mercato e come renderla proficua attraverso l'utilizzo di semplici regole che possono essere utilizzate in tutti quanti i settori. Questo libro non è una Bibbia, perché ce lo siamo detti, il marketing in realtà è una disciplina in continua evoluzione. Il marketing è basato sulle persone e le persone cambiano abitudini, cambiano credenze, cambiano miti, cambiano mode, cambiano i gusti. Ma di sicuro, visto che il marketing è facile se sai come farlo, questo libro è un buon punto di partenza. Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!